Il modello atomico di Bohr, presentato nel 1913, è oggi del tutto superato. Tuttavia è estremamente importante conoscerlo, almeno a grandi linee. Per comprenderlo dobbiamo innanzitutto considerare le motivazioni che hanno spinto alla sua elaborazione. Il modello di Bohr è stato elaborato in risposta al sorgere di due problemi principali riguardanti gli atomi. Uno riguardante gli spettri discreti e uno riguardante la stabilità degli atomi. In primo luogo, esperimenti avevano mostrato come da una parte solidi, liquidi e gas densi riscaldati emettono una radiazione elettromagnetica in cui è presente ogni lunghezza d'onda, perciò si parla di uno spettro di emissione continuo. Dall'altra, gas monoatomici rarefatti riscaldati emettono radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda discrete. Si parla in questo caso invece di uno spettro di emissione discreto. Inoltre, facendo passare una radiazione elettromagnetica con tutte le lunghezze d'onda attraverso un gas monotomico rarefatto freddo, si può notare che sono assorbite solo determinate lunghezze d'onda discrete. In questo caso si parla di spettro di assorbimento. Per una specie atomica fissata si trova sperimentalmente che le lunghezze d'onda assorbite in questo caso corrispondono esattamente alle lunghezze d'onda dello spettro di emissione. Perciò si può parlare in generale di linee spettrali, anziché di spettro di emissione o di assorbimento. In particolare, già nel 1888 fu trovata da Rydberg la cosiddetta formula di Rydberg, che genera tutte le lunghezze d'onda discrete dello spettro dell'idrogeno monotomico. L'inverso della lunghezza d'onda è pari al prodotto tra la costante di Rydberg, Rh, e la differenza tra 1 su n1 al quadrato e 1 su n2 al quadrato. La lunghezza d'onda è denotata dalla lettera lambda, come al solito. La costante di Rydberg dell'idrogeno è denotata con R maiuscola con H maiuscola pedice, perché R maiuscola non è altro che l'iniziale di Rydberg e H maiuscola pedice non è altro che il simbolo chimico dell'idrogeno. Infine N1 e N2 sono numeri interi positivi maggiori o uguali a 1, tali per cui N1 sia minore di N2. Bene, prima del modello di Bohr non si aveva una spiegazione degli spettri discreti e vedremo come dai semplicissimi postulati del modello di Bohr si riesce ad aggiungere alla formula di Rydberg. Il secondo problema a cui ci si trovava davanti era la stabilità dell'atomo. Infatti un elettrone orbitante attorno al nucleo, come era nel modello di Rutherford, il modello accettato precedentemente al modello di Bohr, è una carica accelerata e, in quanto tale, l'elettrone, secondo le leggi già note di elettromagnetismo, dovrebbe emettere energia sotto forma di radiazione elettromagnetica. Secondo questo ragionamento, l'elettrone perderebbe energia meccanica fino a cadere sul nucleo. Anche questo problema sarà risolto nel modello di Bohr. Avendo presentato brevemente i due problemi principali presenti prima dell'elaborazione del modello di Bohr, ora possiamo vedere effettivamente in cosa consista questo modello di Bohr. Nel seguito parleremo in particolare dell'atomo di idrogeno o di uno ione idrogenoide, ossia parleremo di un sistema costituito da un nucleo e da un elettrone. Il nucleo, ricordiamo, che è a carica positiva ZE, ossia Z volte la carica elementare, e l'elettrone invece a carica negativa meno E, ossia l'elettrone a carica opposta rispetto alla carica elementare. Per indicare l'atomo di idrogeno o uno ione idrogenoide si utilizzano anche i termini atomo ad un elettrone oppure atomo idrogenoide oppure sistema idrogenoide. La comodità di considerare un atomo ad un elettrone consiste nel fatto che ovviamente non essendoci più elettroni, non ci si pone il problema di tenere in conto le interazioni tra i vari elettroni. Una breve parentesi. Per comodità è opportuno porsi nel sistema di riferimento avente come origine il centro di massa del sistema e quindi, in tutte le formule seguenti, al posto della massa dell'elettrone, a rigore bisognerebbe considerare la massa ridotta dell'elettrone. La massa ridotta dell'elettrone sarebbe pari al rapporto tra il prodotto di massa dell'elettrone per massa del nucleo fratto massa dell'elettrone più massa del nucleo. Tuttavia, la massa dell'elettrone è molto simile alla massa ridotta dell'elettrone. Questo perché la massa del nucleo è molto più grande della massa dell'elettrone. E perciò, in prima approssimazione, possiamo considerare nelle formule seguenti m come semplicemente massa dell'elettrone. Però basta ricordarsi che, a rigore, in verità ci vorrebbe questa massa ridotta. Inoltre, in prima approssimazione, possiamo considerare il nucleo come origine del sistema di riferimento e non il centro di massa, sempre per lo stesso motivo. Se la massa del nucleo è molto più grande della massa dell'elettrone, è naturale capire che il centro di massa del sistema sarà per forza molto vicino al nucleo e quindi, approssimativamente, in prima approssimazione, possiamo considerare il nucleo come coincidente con il centro di massa. A questo punto possiamo andare a denunciare i veri e propri postulati del modello di Bohr per un atomo ad un elettrone. L'elettrone si muove attorno al nucleo percorrendo orbite circolari. Percorrendo un'orbita circolare, l'elettrone non emette energia. Il modulo del momento angolare dell'elettrone è un multiplo intero della costante di Planck ridotta, ossia L grande, o come si vuole indicare il momento angolare, è pari a N per H tagliato. H tagliato non è altro che la costante di Planck ridotta. Ed N è un numero intero positivo maggiore o uguale a 1. Quindi N può essere, ad esempio, 1, 2, 3, eccetera. Inoltre, un elettrone, passando da un'orbita ad energia maggiore ad un'orbita ad energia minore, emette la differenza di energia sotto forma di un fotone. Viceversa, un elettrone può assorbire un fotone con un'energia opportuna per passare da un'orbita circolare ad energia minore ad un'orbita circolare ad energia maggiore. L'energia di un fotone, ricordiamo, che è H ni, oppure H nu, come la si voglia chiamare, ovvero H è la costante di Planck e ni è la frequenza della radiazione elettromagnetica. Questa espressione, energia del fotone uguale ad H ni, costante di Planck per frequenza, è già comparsa nella spiegazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico. A questo punto abbiamo a disposizione i pochi postulati di Bohr, però vediamo che con calcoli relativamente semplici possiamo ottenere delle grandezze che ci interessano. Innanzitutto vogliamo ricavare i raggi delle orbite circolari e le velocità con cui l'elettrone percorre le varie orbite. Innanzitutto ricordiamo che il momento angolare di un punto materiale non è altro che il prodotto vettoriale tra R e P. R è la posizione rispetto naturalmente all'origine del sistema di riferimento e P è la quantità di moto, quindi massa per vettore velocità. Per le nostre orbite circolari il modulo del momento angolare non è altro che Mvr, massa per velocità per raggio dell'orbita circolare. Unendo ciò al postulato della quantizzazione del momento angolare, ossia L è uguale a NH tagliato, si ottiene Mvr è uguale a NH tagliato e questa è un'equazione che ci ricordiamo e la mettiamo da parte in un sistema che sarà di due equazioni in due incognite. Le due incognite saranno R e V, R raggio delle orbite circolari e V la velocità dell'elettrone. Ora ci serve una seconda equazione che abbia dentro R e V. In questa maniera avremo un sistema di due equazioni in due incognite e possiamo trovare le due incognite R e V. Bene, la seconda equazione invece la otteniamo con considerazioni sul modulo della forza che attrae l'elettrone verso il nucleo. Si tratta della nota forza di Coulomb, il cui modulo è il rapporto tra modulo di Q1 per Q2, per due cariche generiche Q1 e Q2, fratto 4pi greco epsilon 0 d al quadrato, ovve d è la distanza tra le due cariche Q1 e Q2 ed epsilon 0 è la costante dielettrica del vuoto. Quindi per l'elettrone che ha carica e il nucleo che ha carica ZE, la forza di Coulomb è semplicemente ZE al quadrato fratto 4pi greco epsilon 0 r al quadrato. La nostra distanza tra nucleo ed elettrone infatti è R, il raggio dell'orbita circolare. Inoltre sappiamo che il modulo della forza è pari a massa per modulo dell'accelerazione e in questo caso si tratta dell'accelerazione centripeta che per il moto circolare uniforme sappiamo essere V al quadrato fratto R, R è il raggio della circonferenza. A questo punto siamo giunti alla nostra seconda equazione da mettere al sistema con quella ricavata precedentemente. La seconda equazione è ZE al quadrato fratto 4pi greco epsilon 0 r al quadrato uguale a Mv al quadrato fratto R. Dunque mettendo a sistema quest'ultima equazione con l'altra equazione ricavata precedentemente, ossia MvR uguale ad NH tagliato, otteniamo un sistema di due equazioni nelle due incognite R e V. In questa maniera possiamo trovare facilmente tramite dei calcoli le espressioni per R e V. L'espressione di R è 4pi greco epsilon 0 h tagliato al quadrato n al quadrato fratto ZE al quadrato n. L'espressione per V invece è ZE al quadrato fratto 4pi greco epsilon 0 h tagliato n. Ora, non è importante ricordarsi queste espressioni, infatti basta ricordarsi il procedimento per giungere al sistema di due equazioni appena enunciato e così queste due espressioni per R e V le possiamo ricavare molto facilmente. Tuttavia è bene ricordarsi già da subito che R è direttamente proporzionale al quadrato di n, invece V è inversamente proporzionale ad n. Quindi è bene ricordarsi che all'aumentare del numero quantico n il raggio dell'orbita circolare aumenta, invece la velocità dell'elettrone percorrente tale orbita diminuisce. Avendo ottenuto le espressioni per R, raggio dell'orbita circolare e V, la velocità dell'elettrone percorrente tale orbita, possiamo ottenere facilmente l'espressione dell'energia totale dell'elettrone in una certa orbita. L'energia totale dell'elettrone non è altro che la somma della sua energia cinetica e della sua energia potenziale. Sappiamo che l'energia cinetica, per velocità non relativistiche, come nel caso attuale, è un mezzo massa velocità al quadrato. Invece l'espressione per l'energia potenziale dell'elettrone è meno ZE al quadrato fratto 4πη0r. A questo punto, andando a sostituire le nostre espressioni di R e V ricavate prima, possiamo ottenere l'espressione dell'energia totale dell'elettrone. L'energia totale dell'elettrone così risulta. M mezzi aperta tonda ZE al quadrato fratto 4πη0h tagliato chiusa tonda al quadrato moltiplicato per 1 fratto n al quadrato, n numero quantico al quadrato. Quindi vediamo che il valore assoluto dell'energia totale dell'elettrone diminuisce all'aumentare del numero quantico. Ma vediamo anche che vi è quel segno meno che abbiamo detto. Quindi diciamo che l'energia totale dell'elettrone, man mano che il numero quantico aumenta, in realtà aumenta anch'essa, in quanto diventa sempre meno negativa, in quanto è sempre negativa, ma man mano che n si ingrandisce, n è al denominatore, n al quadrato è al denominatore, e quindi fa diminuire l'energia dell'elettrone che quindi tende a zero, ma tende a zero dal basso. Quindi abbiamo visto che all'aumentare del numero quantico n aumenta il raggio dell'orbita circolare ed aumenta anche l'energia dell'elettrone percorrente tale orbita. A questo punto consideriamo l'assorbimento o l'emissione di un fotone. Abbiamo già detto che un fotone è emesso quando l'elettrone passa da un'orbita ad energia maggiore a un'orbita ad energia minore. Invece un fotone è assorbito per portare l'elettrone da un'orbita ad energia minore ad un'orbita di energia maggiore. Siano n1 e n2 due numeri quantici e n1 sia minore di n2. Perciò l'orbita circolare con il numero quantico n1 avrà un'energia minore dell'orbita circolare con il numero quantico n2. Per passare dall'orbita n1 all'orbita n2 bisognerà assorbire un fotone. Invece nel passaggio dall'orbita n2 all'orbita n1 sarà emesso un fotone. In ogni caso l'energia del fotone è pari alla differenza di energia tra le energie di queste due orbite. Perciò possiamo scrivere che hn, l'energia del fotone, è pari alla differenza tra l'energia dell'orbita n2 e l'energia dell'orbita n1. Noi abbiamo già ricavato l'energia delle orbite. E perciò, semplicemente andando a sostituire tale espressione dell'energia, possiamo ottenere meno m mezzi aperta tonda z e al quadrato fratto 4pi greco epsilon 0 h tagliato chiusa tonda al quadrato aperta un'altra tonda 1 fratto n2 al quadrato meno 1 fratto n1 al quadrato chiusa seconda tonda. Inoltre sappiamo che lambda n1 è uguale a c. Questa è una relazione molto famosa e tramite questa relazione possiamo vedere che al posto di hn possiamo scrivere hc fratto lambda. spostando dall'altra parte hc otteniamo 1 su lambda uguale a qualcosa poi aperta tonda 1 fratto n2 al quadrato meno 1 fratto n1 al quadrato. E' chiaro che da quest'ultima relazione sulle lunghezze d'onda dei fotoni possiamo in particolare giungere alla formula di Rydberg per le lunghezze d'onda del idrogeno. Naturalmente basterà sostituire z uguale a 1 perché nell'idrogeno vi è un protone nel nucleo e sostituire anche tutte le altre cose. Quindi al posto di m metteremo il valore di m cioè la massa e gli altri vari valori la costante di Planck ridotta, la costante di Planck, la velocità della luce nel vuoto, la costante dielettrica del vuoto, insomma tutte altre cose note e otteniamo una stima per la nostra costante di Rydberg dell'idrogeno e possiamo vedere come la costante di Rydberg dell'idrogeno trovata sperimentalmente già da tempo, già dal 1888, è in ottimo accordo con la costante di Rydberg dell'idrogeno trovata in questo modo appena enunciato. Dunque, ricapitolando, abbiamo detto in cosa consiste il modello di Bohr per i sistemi idrogenoidi, ossia nucleo più singolo elettrone orbitante. Abbiamo detto come si giunge alle espressioni del raggio delle orbite circolari e della velocità degli elettroni che percorrono tali orbite. Abbiamo detto in particolare come all'aumentare del numero quantico n il raggio aumenta e la velocità diminuisce. Abbiamo visto poi come si ricava l'energia totale dell'elettrone e, calcolando la differenza di energia tra i livelli energetici delle varie orbite, abbiamo visto come i fotoni possono avere solo certe energie discrete e dunque per la relazione energia-fotone uguale ad h-ni, costante di Planck per frequenza, i fotoni possono avere solo certe frequenze discrete e dunque di conseguenza possono avere solo certe lunghezze d'onda discrete. Questo per la relazione λ-ni uguale a c, lunghezza d'onda per frequenza uguale a velocità della luce nel vuoto. Abbiamo poi visto che in particolare vi è accordo tra le lunghezze discrete derivanti da tale ragionamento per l'idrogeno e quelle ricavate dalla formula di Rydberg.